Novità lungo la tangenziale est e altro passo in avanti nel cantiere del nuovo ponte di via Vigonovese, mentre gli operai stanno posizionando la segnaletica, rimettendo il guardrail, ricollegando i tubi dell'acqua. In queste ore i primi automobilisti hanno iniziato a percorrere una corsia del nuovo ponte. Stiamo riposizionando il guardrail centrale, quello dove oggi avviene lo scavalco di corsia, quindi le macchine già passano in una corsia sola nel nuovo ponte di via Vigonovese. Quindi iniziamo a utilizzare questo nuovo attraversamento, questo nuovo ponte. Un ponte che è già stato collaudato, ora ecco la possibilità di percorrerlo, seppure su una sola corsia, cosa che riduce code e disagi alla vigilia della riapertura delle scuole. Il ponte è già collaudato e proprio per questo gli automobilisti stanno andando avanti. E' con noi, quindi stiamo liberando, e questa settimana ci serve a questo, tutti i cantieri del comune di Padova sull'asta della tangenziale est. Quindi entro il 10 noi apriremo il cantiere. Entro i prossimi giorni poi saranno chiusi tutti i cantieri sulla tangenziale. Già eliminato quello per la sistemazione del guardrail in corso Kennedy, in corso primo maggio è stata riaperta una corsia. Rimane il disagio per chi arriva dalla zona nord della provincia di Padova, per il cantiere aperto in prossimità del ponte Darwin e criticato dall'amministrazione comunale. Aprire un cantiere a settembre, per giunta di giorno, per giunta su una lavorazione che si può fare anche o di notte o nel fine settimana, insomma mi sembra una leggerezza che però costa molto caro ai territori e ai cittadini.